Stefania Russo, candidata per l'Alleanza Verdi per Sinistra, una campagna elettorale innanzitutto un po' particolare, perché? Sì, è una campagna particolare prima di tutto perché è molto concitata per i tempi che sono strettissimi e poi purtroppo si registra una partecipazione sempre minore dei cittadini alla vita politica, questo è un male diciamo non degli ultimi tempi. Di fronte a questo però io voglio lanciare un invito ai cittadini, seppur con tutte le difficoltà di questa campagna elettorale, ad informarsi, a partecipare attivamente perché è una campagna elettorale importantissima ed sarà un'elezione molto molto importante perché andiamo incontro ad una legislatura che dovrà prendere decisioni importantissime, ci troviamo in una condizione internazionale, in una situazione internazionale molto delicata, quindi è necessario che i cittadini votino consapevolmente. Ecco, in questi tempi si parla dello spavolacchio della destra, in effetti se questi poi saranno i sondaggi avremo sicuramente un governo che potrà decidere molte situazioni a livello nostro nazionale. Quali sono invece le proposte vostre? Allora, noi proponiamo un'idea di società e di paese che è completamente diversa da quella della destra e invito i cittadini a guardare non soltanto al risultato elettorale ma a quale idea di paese viene proposta e a quale idea di paese verrà rappresentata nel nostro Parlamento. E' importante che nel Parlamento venga rappresentata anche un'idea di paese appunto diversa da quella della destra. Parto da qual è la nostra idea di paese. Noi vogliamo difendere in tutti i modi la giustizia sociale coniugandola con la giustizia ambientale. Questo è quello che sta alla base dell'alleanza Verdi-Sinistra. Per fare questo è necessario che mettiamo al centro determinate questioni con delle proposte naturalmente concrete. La questione del lavoro è una questione centrale. Ci troviamo in una situazione nella quale, partendo proprio dalla provincia di Foggia, abbiamo lavoro povero, precarietà del lavoro, disoccupazione. Di fronte a questo noi abbiamo delle proposte concrete. Il disegno di legge sul salario minimo che è stato già depositato all'inizio di quest'anno da Sinistra Italiana, un disegno di legge che è stato redatto dal professor Marco Barbieri di Sinistra Italiana, che propone il superamento dei contratti pirata, cioè quei contratti che, appunto, pur garantendo il lavoro con un contratto, sono contratti che prevedono retribuzioni da fame che non consentono ai lavoratori di uscire dalla povertà. Questa è la prima nostra proposta. Per quanto riguarda il precariato, il superamento del precariato può avvenire soltanto con un superamento del Jobs Act, che dal 2015 ha provocato una proliferazione dei contratti precari, una marea di contratti differenti. Quindi noi vogliamo abolire il Jobs Act e ripristinare le tutele dell'articolo 18, non soltanto per le categorie che venivano tutelate in precedenza, ma ampliando questa tutela anche ad altre categorie di lavoratori. Per quanto riguarda la disoccupazione, riteniamo che sia necessario un investimento importante da parte dello Stato in tutti i settori strategici della pubblica amministrazione, della scuola, della sanità, della giustizia, delle forze dell'ordine, anche per contrastare le nostre emergenze, che sono in primis, per esempio, nel nostro territorio l'emergenza criminalità. Nessuno parla in questa campagna elettorale, o quasi nessuno, di mafia, di lotta alla corruzione. E invece questo è un tema importantissimo, nella provincia di Foggia in particolare, ma in tutto il sud e in tutto il paese. Senta, lei comunque è già amministratrice, è in Consiglio Comunale, nella sua città, quindi il territorio, Monti Dauni, Capitanata, quali sono le esigenze, le necessità più impellenti anche per il territorio? Si parla tanto di candidati e poi alla fine molti vengono da fuori e invece lei è del territorio. Sì, questa è stata una cosa che mi ha dato molto onore, il fatto che mi sia stata proposta questa candidatura come capolista nel mio territorio e quindi è stato uno dei motivi che mi ha spinta ad accettare. Il nostro territorio, come dicevo, ha diverse emergenze. La prima è quella della criminalità. Voglio tornare su questo tema perché è importantissimo nella nostra provincia. La criminalità gestisce pacchetti di voti. Ci sono state indagini sul voto di scambio nelle ultime elezioni regionali, se non ricordo male. La criminalità si infiltra nel tessuto economico e sociale. Ci sono nelle relazioni del Ministero dell'Interno sui comuni sciolti per mafia c'è un'inquietante descrizione della situazione, non solo dal punto di vista politico, cioè gli organi politici che rinunciano alla loro funzione di controllo, ma anche una compromissione naturalmente delle tecnostrutture che si piegano agli interessi della criminalità organizzata. E la cosa più grave, secondo me, è che questo si traduce in un degrado dei servizi alla comunità. Questo è quello che mi spinge a insistere su questo tema. Un territorio nel quale la politica si arrende alla criminalità organizzata è un territorio nel quale i servizi ai cittadini vengono meno, sono servizi peggiori. Che cosa proponiamo noi da questo punto di vista? Prima di tutto l'attenzione della Commissione antimafia si deve concentrare sulla provincia di Foggia. È necessario che ci siano strumenti legislativi idonei, per esempio bisogna vietare la vendita dei beni confiscati, perché potendoli vendere possono essere riacquistati dalla criminalità organizzata. Bisogna proteggere tutti gli amministratori locali che si espongono, che denunciano, i giornalisti, bisogna sostenerli anche economicamente e poi è necessaria una dotazione organica di forze dell'ordine e magistrati che ci consenta di affrontare con forza questo problema. Chiudo su un argomento importante. I sondaggi parlano in una certa maniera, ma oggi il primo partito sono quelli indecisi e l'astenzionismo. Come coinvolgerli? Qual è il vostro motto, la vostra voglia di convincerli? Allora, io credo che nonostante tutta la sfiducia che i cittadini hanno nei confronti della politica, non scegliere non è mai la soluzione. Quindi invito i cittadini, data la criticità della situazione che viviamo a livello internazionale, nazionale e nella nostra provincia in particolare, di ascoltare i candidati, di confrontare i programmi e di votare per noi perché noi affrontiamo tematiche così importanti quali quelle della lotta alla criminalità organizzata, di uno sviluppo sostenibile del territorio, della lotta allo spopolamento delle aree interne, avendo sempre presenti i principi della nostra Costituzione. Grazie. 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 Grazie.